Di Sanremo, andate a vedere che cosa facevano questi che erano finalmente arrestati a questi poveri, anziani poveri, disgraziati, giacenti su un letto o su una sedia rotella, andatevelo a vedere perché potete capire così a che punto può arrivare l'infimo animo umano. No, ma abbiamo avuto il nazismo e questo non è diverso dal nazismo. Io mi domando perché però quando si scelgono persone che devono essere messe vicino a persone anziane o devono curare, non vengano scelte secondo le loro, non si può prendere chiunque e sbatterlo in quella situazione. Io credo che ci sia anche una grande responsabilità da parte di chi sceglie queste persone, voglio dire perché poi oltretutto che si trovano perfettamente a loro agio tra di loro, perché una cosa del genere non può succedere. Appunto perché un altro interviene e dice ma tu sei un criminale, ma cosa stai facendo? Andatevelo a vedere perché se ve lo raccontassimo non ci credereste proprio a Sanremo relativo ai sette arresti di questo istituto che si chiama Casa di Riposo Borea. Andatevelo a vedere. Possiamo anche dare un link sul sito del secolo XIX www.ilsecoloxix.it Andatevelo a vedere e capite che umanità circola attualmente. Inarrabile, sono scelta adesso l'immagine della guardia di finanza di Imperia. Una roba veramente orribile, raccapricciante. Alba. Ecco, ma io ti chiedo una grossa cortesia. Quando hai finito la diretta? Non voglio terrorizzare nessuno, non voglio che qualcuno pensi che ti sto facendo la corte di nascosto. No tesoro mio. Ma ti devo fare una comunicazione riguardo a una cosa di cui abbiamo parlato io e te ieri, che non è nulla di segreto, ma insomma ieri ci siamo fatti un bel pranzo al ristorante. Certo, certo. L'idea che tu mi hai dato, ci avrei pensato, mi è piaciuta. E quindi io sarò a Roma fino a venerdì. Se mi fai una telefonata ti dico delle cose. Molto bene. È una comunicazione, ho usato il mezzo pubblico per una comunicazione personale. Molto bene. Allora ci sentiamo fra un attimo. Intanto un abbraccio e ci risentiamo domani. Grazie forte. Ciao. Grazie alla nostra Alba Parietti.